Cambia sede la commissionaria di auto Elga di Bagheria. I nuovi locali ad angolo tra la via Federico II e la via Giuseppe Bagnera sono molto più grandi e funzionali. La Elga è gestita dal professor Luigi Chiappone da anni nel mondo delle auto. Sono disponibili le vetture delle marche più note, Citroen, Nissan, Hyundai, Peugeot, Dacia, Renault, ma anche auto usate a chilometro zero. Sabato pomeriggio il taglio del nastro alla presenza di parenti, amici e vecchi clienti. Un'occasione per poter provare una delle auto in mostra tra una stretta di mano e un brindisi. Fiore all'occhiello della commissionaria e la lunga esperienza e la fiducia che riscuote sul mercato dell'auto. Prerogative indispensabili in considerazione del fatto che occorre una guida esperta e di fiducia nella scelta di un'auto tra le tantissime marche in commercio e una miriade di modelli. Alla Elga trovi il miglior rapporto qualità-prezzo.